www.vorizopoli.it, edicola settimanale Mondo Padano, e nell'inserto tradizionale Economia e Lavoro, nella rubrica Risparmio e Finanza, ecco qua, due case ciascuno, nuovo articolo di Giusy Viondelli, nell'inserto Risparmio e Finanza, Casa, Tassi e Demografia, dinamiche geopolitiche ed economiche globali e tecnologia, effetti a cascata, quindi l'impatto sul patrimonio, quindi due case a testa, un bambino che nasce quasi quasi in Italia, già due case, una sintesi estrema, però il legame tra il mercato immobiliare e l'aspetto demografico sulla protezione patrimoniale è un focusing molto interessante, e conclude con una frase di Warren Buffett che ritengo molto interessante, l'investimento deve essere razionale, se non lo capite, non lo fate. Buona educazione finanziaria a tutti!